No, si è sfasato! In che corsia è? Ma che ha fatto? Adesso te lo dico! In corsia 2, è sicuro? Ha recuperato il peso d'Orto però, a volte. Ciao, ad Orto è un delirio! Mascurini la 2! Voglio subarviare! In corsia 2, è sicuro! No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Adesso appena finito il video per il mio cuore! Appena finito il video per il mio cuore! Grazie!